Doveva essere un fine settimana tranquillo insieme ai parenti, invece si è tramutato in tragedia. Maria Vitanova, 24 anni, era arrivata a Piacenza venerdì con il padre, console generale di Macedonia in Italia. La sua vita si è spezzata sabato notte insieme a quella del cugino, metodi Vitanova, per tutti i todi. La Renault Clio, guidata dal 25enne, intorno alle 3 ha imboccato via Gadolini da via Veneto, dove la strada devia leggermente a sinistra, si è schiantata contro un albero. Subito sono intervenute due ragazze che si trovavano a bordo di un'auto posteggiata nella via, ma poco dopo la Clio ha preso fuoco senza lasciare scampo ai due giovani. In via Veneto l'utilitaria in sorpasso aveva urtato lievemente lo specchietto di una Golf con a bordo due ragazzi piacentini che raggiunta via Gadolini si sono fermati a prestare soccorso, ma anche i loro tentativi di aprire la portiera sono stati vani, così come quelli dei volontari del soccorso intervenuti con l'estintore. Nemmeno i vigili del fuoco sono riusciti a liberare i due ragazzi. A definire la dinamica dell'incidente sarà la polizia. Il boato dell'impatto ha svegliato tanti abitanti increduli per l'accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico diverse ore, gli addetti del comune hanno tagliato l'albero ormai pericolante, i tecnici di sicurezza ambiente hanno ripristinato la carreggiata. Metodì, detto Todi, operaio della logistica, era cresciuto all'infrangibile a Piacenza e aveva frequentato l'istituto Casali. Tutti lo ricordano come un ragazzo buono e pieno di vita, molto legato alla famiglia. Lascia i genitori, tre fratelli e una sorella. Amava il calcio e ieri la squadra primogenita ha osservato un minuto di silenzio. Un amico ricorda che in compagnia lo prendevano in giro perché in macchina andava piano. Maria era bellissima, originaria di Sturmica. Dopo la laurea aveva trovato lavoro nell'Accademia della città macedone. Aveva posato anche come modella. Ieri doveva tornare a casa. Sul luogo dell'impatto, bagnati dalla nebbia, sono rimasti due mazzi di fiori. Metodie e Maria si aggiungono al triste elenco delle giovani vittime della strada che in questo inizio 2020 a Piacenza è tragico. La settimana scorsa, in due incidenti diversi, erano morti Valentina Zaia di 22 anni e Matteo Bellan di 23.